Ad Avellino la settimana per il benessere psicologico si terrà dall'8 al 13. Dottore, cosa avverrà in questi giorni praticamente? Sì, in realtà avverrà in tutta la Campania, ci saranno eventi come quello di Avellino, quindi seminari in tutta la regione, centinaia di seminari, a cui parteciperanno anche i sindaci perché la settimana per il benessere psicologico è stata organizzata in collaborazione con l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e avverrà anche un'altra cosa, i psicologi apriranno i loro studi per delle consulenze gratuite, quindi tutti i cittadini campani che vogliono poter avere una consulenza psicologica possono collegarsi col sito dell'ordine degli psicologi e lì ci sta l'elenco di quelli che hanno aderito all'iniziativa. Ad Avellino in particolare faremo un seminario giovedì 11, il pomeriggio, alle 4 al circolo della stampa, in cui parleremo di resilienza e quindi l'utilità dell'intervento psicologico per ridurre l'impatto degli eventi negativi sulla vita delle persone, dei traumi, perché delle volte un evento negativo ha poi conseguenze a distanza anche attraverso le generazioni. Dottoressa, cosa vuol dire praticamente promozione della resilienza? La capacità degli individui di riadattarsi alle condizioni di crisi. Ovviamente in qualità di psicologi tentiamo rispetto alla domanda che ci viene posta di veicolare questo processo, perché il riadattamento può essere funzionale, quindi il ripristino funzionale di un'omeostasi che promuove un adattamento, o può essere invece un equilibrio sintomatologico, che quindi l'organismo, l'individuo ritrova un equilibrio, ma non sempre in maniera adeguata rispetto alle finalità della propria fase di vita. Carmen De Vitro, in questa settimana ci sarà anche spazio per i bambini con un tuo progetto Cresco Sano e Forte il 10 ottobre a Casina del Principe. Esatto, sarà un progetto dedicato completamente ai bambini, ci sarà un neuropsichiatra che parlerà delle problematiche, della diagnostica, delle patologie che riguardano i bambini, in più dei laboratori esperienziali gratuiti dalle 16 e 30 alle 18, dove i bambini potranno sperimentare musicoterapia, dei giochi legati all'alimentazione, al benessere psicologico e storytelling con un consiglio aquino dell'angolo delle storie.